La grande tradizione del teatro nel teatro è quella del varietà più scoppiettante. Sono gli elementi scelti dalla compagnia Teatro Sassari per il gran finale del Festival Etnia e Teatralità, in scena con la sua 32esima edizione dallo scorso 15 ottobre nel teatro di Via Cossiga. Venerdì 17 febbraio alle 21 andrà in scena infatti Gran Caffè Astra, la nuova produzione scritta da Mario Lubino che ne cura anche la regia insieme ad Alfredo Ruscito. Due le parti della chies, la prima che assicura grandi risate con la messa in scena delle tragicomiche prove dello spettacolo tra equivoci, sottili cattiverie e disastri di un distrattissimo suggeritore. La seconda si ispira al Café Chantin, genere nato in Francia durante la Belle Époque. Gli 11 artisti sul palco faranno rivivere le atmosfere dell'avance spettacolo con i suoi protagonisti, subrette, comici e cantanti. È un genere di teatro musicale che nasce in Francia e che poi verrà naturalmente adottato soprattutto a Napoli, tanto è vero che la Chanteuse diventerà la Chantosa, per poi passare al Varietà diventerà poi la Subrette. Quindi faremo tutti i pezzi più importanti da Niniti e da Bouchon, di repertorio del grande Varietà. Anche Sassari a cavallo tra 8 e 900 ebbe il suo Café Chantin, racconta Cosimo Filigheddu, giornalista e autore di numerose commedie portate in scena dal Teatro Sassari, in particolare della fortunata rassegna i grandi personaggi di Sassari. Era il Caffè Roma, in piazza Azzuni. La Subrette del locale era la mitica Zelinda Molinari, il cui pezzo forte era Caddarina Pizzinna Trappera, storia di una sartina ingravidata e abbandonata. Il Gran Caffè Astra sarà replicato anche sabato e domenica.